La Calabria entro breve resterà senza ricettari rosa per l'acquisto dei farmaci, anche quelli salvavita di fascia e la denuncia di Federpharma Catanzaro che nel corso di una conferenza stampa insieme all'Associazione Cittadinanza Attiva all'Ordine dei Farmacisti Locali ha sottolineato come l'emergenza sia imminente riguardi i milioni di ricette. In Calabria infatti si evade mediamente in un mese una ricetta per ciascun abitante. Invito ancora una volta sia il dottore Fatarella che il direttore Brancati, nonché il commissario Scura e il subcommissario Urbani a prendere immediatamente una decisione, a vallare la ricetta bianca o quantomeno fare un tavolo di concertazione con Federpharma, FIMIGI e direttori generali. La Calabria avrebbe risolto il problema se solo, ha detto Vitaliano Corapi, presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Catanzaro, avesse già recepito la ricetta elettronica. Ci auguriamo che il dottore Scura intervenga tempestivamente per risolvere questo triste momento che porterà delle conseguenze, come diceva il dottore De Filippo, tragiche per la popolazione della provincia di Catanzaro che è quella che ci riguarda. La situazione di emergenza potrebbe durare fino ad aprile e nelle zone rurali, più interne della provincia e della regione, ha detto Maria Cristina Murone, presidente delle farmacie rurali, il problema potrebbe essere ancora più grave. Anna Prete per l'AC News 24